Musica Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale Ad Cicatena ci sono state delle ore di apprezzione e panico dopo che una donna si è recata all'interno del palazzo di città con una bottiglia carica di benzina e ha minacciato di cospargerselo questo liquido infiammabile addosso e darsi fuoco dopo che i servizi sociali hanno preso in custodia il figlio letto di 5 anni Salvo Cutuli Dramma della disperazione ad Cicatena protagonista questa donna di 42 anni che stamani ha vagato per ora nel chiostro comunale del palazzo di città con una bottiglia di benzina in mano minacciando e darsi fuoco per essersi vista strappare la custodia del figlio di 5 anni dagli assistenti sociali che hanno dato esecuzione ad un provvedimento del giudice Valentina Marcanzò vinta dallo sconforto e decisa a far valere le proprie ragioni di mamma ha intrapreso la clamorosa e imprevista ribellione la 42 anni passata aveva inscenato altre proteste ma con toni meno cruenti tentando la via del dialogo con le istituzioni Per due ore circa la signora ha ripetutamente minacciato di cospargersi il corpo di liquido infiammabile di piccare il fuoco immediato è scattato l'allarme da parte dei dipendenti comunali che hanno allertato il comando della polizia municipale e la locale stazione dei carabinieri giunti su posto in forza insieme al personale di un'ambulanza del 118 e una squadra di vigili del fuoco pronti ad intervenire in caso di necessità è stato il comandante dei carabinieri Fabrizio Aspetta a condurre a primi dei consigli la donna in evidente stato confusionale l'intervento del vicepresidente dell'associazione antiracchetti libera impresa Salvo Strano che da tempo segue la vicenda familiare della donna separata e madre di altri due figli è stato risolutivo tanto che la signora ha desistito dall'intento suicida ed ha consegnato la bottiglia di benzina ai carabinieri sono stati momenti di tensione con la donna circondata dalla forza dell'ordine dei soccoritori che ai nostri microfoni si è sfogata così Sto in casa famiglia a Giarra, a Macchio stamattina, ieri è arrivato un provvedimento non lo so che mi devono togliere i bambini se l'ha portata la fiore l'assistente sociale di qua sto male perché non so cosa fare ora dice ci sono gli incontri tre volte a settimana ma questo è un gesto disperato di una mamma signora, la capiamo perfettamente ma lei con la benzina non è che risolve tutto che mi hanno scritto che sono una prostituta nelle relazioni cose brutte che io sono una mamma in grada io a mio figlio me lo sono cresciuto a 5 anni da sola senza papà perché è un'andicappato con il mio compagno perciò cosa devo fare? sono disperata questo è il problema ma questa la comprendiamo la disperazione ma non è la soluzione signora e cosa devo fare? non so cosa fare cioè il bambino si è allontanato da me ora io stasera appena arrivato a casa famiglia mi corico da sola perché il bambino si coricava con me è brutto e adesso parliamo di esperienze formative di giovani anche di giovani siciliane c'erano anche ragazzi delle scuole di Catania e Provincia ieri a Roma all'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella una giornata per parlare di storia legalità di mafia e per raccontare anche un po' della propria vita agli studenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri al Quirinale una rappresentanza di studenti delle scuole secondarie di primo grado provenienti da tutta Italia tra loro anche 16 studenti della provincia di Catania degli istituti De Gasperi di Aci San Antonio Verga di Via Grande Dusmet Doria e Musco di Catania un'esperienza indimenticabile per i giovani che hanno avuto l'opportunità di rivolgere alcune domande al presidente Mattarella anche riguardanti la sua vita quotidiana Buongiorno signor Presidente mi chiamo Giada Baglieri e vengo dall'istituto cardinale Dusmet Doria di Catania e oggi volevo farle una domanda noi sappiamo che lei ha molti impegni e molte responsabilità ci può descrivere la sua giornata? Al mattino come prima cosa leggo i giornali e leggo le notizie e i commenti quelli che condivido e quelli che non condivido e forse questi secondi per me sono ancora più importanti perché è importante conoscere il parere degli altri le loro valutazioni e quelli che condivido sono interessanti naturalmente mi sanno a cuore ma quelli che non condivido sono per me uno strumento su cui riflette perché è importante per questo è un gran valore la libertà di stampa perché consente anche di leggendo cose che non si condividono anche se si ritengono sbagliate consente aiutare riflettere anche mafia Camorra e Andrangheta al centro dei quesiti posti dai ragazzi a cui il presidente ha saputo rispondere esponendo concetti abbastanza complessi con estrema semplicità e chiarezza buongiorno signor presidente mi chiamo Giuliana Procita e vengo dall'istituto onicomprensivo Angelo Musco di Catania la domanda che vorrei farle è la mafia la Camorra dell'Andrangheta e le altre forme di criminalità organizzata hanno subito in questi ultimi anni delle dure sconfitte da parte delle forze dell'ordine ma purtroppo non sono state sconfitte definitivamente cosa possono fare le istituzioni e cosa possiamo fare noi cittadini affinché questo male se soltanto lontano ricordo ti ringrazio ma sottolineo quello che hai detto le istituzioni e i cittadini tutti hanno in questo campo in questo fronte così importante un compito da assolgere tutti abbiamo qualcosa da fare con questo piano anzitutto le amministrazioni che devono essere trasparenti e impermeabili alle influenze criminali o mafiose ad accompagnare gli studenti della provincia di catania l'avvocato christian petrina tutor del progetto legalità nelle scuole che nei prossimi mesi coinvolgerà altri istituti il prossimo importante appuntamento riservato alle scuole secondarie e superiori è previsto per il 20 e 21 gennaio ad auschwitz in occasione della giornata della memoria vi saranno altri incontri non ho aderito solo io hanno aderito anche altri colleghi in ambito nazionale componenti delle forze dell'ordine magistrati perché andremo anche nelle scuole a spiegare cos'è la legalità cosa sono le istituzioni e il ruolo dei singoli personaggi che poi i ragazzi andranno ad incontrare in questo caso era il presidente della repubblica sono uscite fuori tante domande una in particolare una ragazza appunto di catania ha chiesto al presidente come si svolgesse della sua giornata e lui ha detto prontamente che la prima cosa che fa è quella di leggere i giornali e lì ha posto l'accento anche sulla libertà di stampa il presidente difende ha difeso la libertà di stampa voi del Movimento 5 Stelle cosa ne pensate come l'avete preso? Premetto che in questa iniziativa io non partecipo come componente attivista del Movimento 5 Stelle in ogni caso non sono un portavoce del Movimento 5 Stelle sono un semplice attivista ma in ogni caso la libertà di stampa penso che sia un valore costituzionale garantito dall'articolo 21 e dall'articolo 15 della nostra Costituzione quindi a prescindere dallo schieramento politico nessuno presumo in questo paese si potrà mai permettere di intaccare la libertà di stampa che è sacrosanta è una libertà assoluta e costituzionalmente garantita Cambiamo argomento da sacerdote a uomo sposato oggi pastore nuovamente stavolta però della chiesa ecumenica che non è riconosciuta dal Vaticano Don Davide Bruno è stato scomunicato dall'arcivescovo di Catania ma lui che è anche un frontman di una band metal si racconta ai nostri microfoni da prete cattolica uomo sposato dopo la dispensa arrivata dal Papa adesso di nuovo sacerdote con moglie però dopo l'adesione alla chiesa cattolica ecumenica non riconosciuta dal Vaticano che accetta presbiteri uomini e donne anche maritati ed omosessuali è la storia di Don Davide Bruno conosciuto anche come il prete metallaro è infatti tra i componenti del gruppo Metatrone una band cristiana che durante la giornata mondiale della gioventù del 2018 a Sydney suonò anche per Papa Benedetto XVI per lui però è adesso arrivata la scomunica da parte dell'arcivescovo di Catania Salvatore Cristina che anni fa l'ordino sacerdote una decisione quella del tribunale ecclesiastico che Don Davide 44 anni insegnante di pianoforte nella scuola di musica e canto di Catania si aspettava è uscito dalla chiesa cattolica romana diciamo in gioia lo stesso arcivescovo Cristina non è che mi voglia male mi vuole bene mi vogliono bene tutti e anche io non ho nessun astio anche se queste notizie sembrano chissà che cosa eccetera non c'è nessun problema tra virgolette tra noi l'unica cosa che io sono uscito diciamo in maniera secondo il diritto canonico quindi prima sono uscito perché non ero d'accordo nella gioia mi hanno accompagnato ad uscire e certo ho passato un periodo veramente brutto sostanzialmente di difficoltà non tanto legate al ministero quanto è una difficoltà che in generale dico al sacerdote ci sono tantissimi confratelli che vivono veramente i sacerdozi in maniera sana pulita però molto spesso restano da soli perché non sono aiutati nel ministero io facevo un particolare avevo un particolare diciamo ministero diciamo non ero nei posti di elite tra virgolette quindi un sacerdote chiamato pretaccio di frontiera e quindi quando combatti tutti i giorni con la delinquenza fino anche a casi di sette o di pedofilia pederastia abusi eccetera ti vuoi sentire sostenuto dal tuo presbiterio dai tuoi confratelli dal tuo arcivesco la svolta nella sua vita sacerdotale arriva quando chiede la dispensa dei voti concessa poi il 5 ottobre del 2017 dopo conosce Miriam e la scorsa estate la sposa e un sacerdote suo ex compagno di seminario a celebrare il matrimonio cattolico adesso la decisione di abbracciare la chiesa ecumenica e di tornare ad indossare i paramenti religiosi presta la sua opera Vampolieri frazione di Acicatene in provincia di Catania una scelta quest'ultima che ha spinto l'arcivescovo Cristina a firmare il decreto che mette fuori dalla comunione della chiesa cattolica il sacerdote Rock e tutti coloro che partecipano editi di culto celebrati da lui ho conosciuto questa realtà meravigliosa che è la chiesa cattolica ecumenica di Cristo dove ho fatto discernimento con il mio arcivesco Agostino De Caro i miei confratelli mia moglie che è importante non si è da solo in questo discernimento e quindi mi trovo a vivere nella libertà di culto e dei figli di Dio questa realtà che può essere condivisa chiacchierata eccetera ma è la mia la vivo il mio scegliere non è far guerra a nessuno l'ho detto non ce l'ho con nessuno né tantomeno col Papa né col Vaticano né col Vesco nessuno né con i miei confratelli ex perché romani tra virgolette non sono un delinquente ci si dovrebbe veramente indignare quando qualcuno di noi sacerdoti fa qualche cosa che va contro la dottrina contro la fede evangelica contro l'uomo e contro le persone a Palermo adesso dove è in corso la due giorni per dare un nuovo volto di pace alla Libia Mario Grasso gli effetti della conferenza di Palermo per dare un nuovo volto di pace ed esistenza in Libia attraversata dal 2011 da Faide che alcuni ritengono essere il lungo effetto della rimozione nemmeno tanto chirurgica di Gheddafi probabilmente matureranno nel tempo ma è certo che il premier italiano Conte esce vittorioso dalla due giorni palermitana se non altro per il colloquio per nulla informale con il generale Haftar l'uomo forte della Cirenaica che non ha preso parte alla sessione plenaria ma che ha avuto colloqui bilaterali con alcune delegazioni tra queste con quella del paese ospite e per aver messo di fronte i due leader del travagliato scenario libico cioè Haftar e Al Sarai i due leader libici si sono scambiati una stretta di mano e forse anche un bacio durante il colloquio con Conte che ha invitato il generale alla mediazione Conte è quindi riuscito a riunire Fayez Al Sarai e Khalifa Haftar quest'ultimo rivolgendosi al premier italiano lo avrebbe definito un amico affidabile e avrebbe sottolineato come la conferenza di Palermo rappresenti comunque un'ottima occasione per la Libia Haftar continua a non sedere allo stesso tavolo con i paesi e le forze legate al fronte islamico anche per questo motivo Conte ha voluto adottare un mini incontro stamattina con la partecipazione dello stesso Haftar e poi del premio del governo di unità nazionale a Tripoli di Sarai il premio russo Medved l'inviato francese il presidente del consiglio dell'Unione Europea il presidente agiziano oltre ai rappresentanti di Tunisia Algeria Niger e Ciad un primo passo importante per la stabilizzazione della Libia di certo sebbene il processo sia ancora lungo ma il primo obiettivo da raggiungere per il governo italiano era quello della sicurezza e dare maggiore sicurezza in Libia significa chiudere anche le porte ai flussi dei migranti Haftar infatti ha dichiarato comunque ad un'emittente libica che si è sempre in stato di guerra e il paese ha bisogno di controllare le proprie frontiere invitando i leader dei paesi confinanti a controllare appunto le frontiere al fine di non far transitare dai confini quelli che lo stesso generale ha definito essere terroristi il vertice internazionale ha dunque acceso i riflettori su Palermo nella speranza che il vertice possa servire a rimarginare le ferite le troppe ferite libiche e all'indomani della sentenza della corte d'assise di Catania che condanna all'ergastolo Roberto Russo padre della piccola Laura uccisa nell'agosto del 2014 parla la mamma della dodicenne dilaniata a colpi di coltello da cucina una ferita che si riapre il sangue rosso vivo come sempre vivo immutato il pensiero per Laura Russo la dodicenne uccisa dal padre la notte tra il 21 e il 22 agosto del 2014 a San Giovanni La Punta all'indomani della sentenza della corte d'assise di appello di Catania che ha confermato l'ergastolo per l'uomo che quella notte ferì anche la figlia più grande e tentò poi di togliersi la vita parla Giovanna Zizzo madre della vittima costretta all'ergastolo del dolore che guarda con fiducia al futuro dopo questa grande prova di giustizia ieri abbiamo avuto la seconda vittoria se così possiamo dire anche se credo che di vittoria nessuno vince quando ci sono dei drammi così grandi ieri è stata una giornata molto dura devastante per me e superandata di più la consapevolezza che qualsiasi vittoria ci possa essere come abbiamo detto prima nessuno meriterà più la mia bambina è un dolore che mi porterò sempre è una condanna che porterò fino all'ultimo giorno della mia vita è giusto che sia andata così io mi ritengo una delle mamme che hanno subito questa violenza fortunata perché è stato condannato all'ergastolo perché non hanno fatto il rito abbreviato però ci sono tantissime mamme che lottano tutti i giorni e poi si rivedono il loro assassino in giro dopo 13-14 anni a volte anche meno quindi su questo punto mi ritengo fortunata perché spero veramente che sia il gasolo pieno per lui non ha alcun diritto di stare fuori perché mia figlia è chiusa in un cimitero un dolore eterno al quale nessun genitore potrà mai rassegnarsi eppure ha raccontato Giovanna Zizzo che dall'inizio del suo calvario porta avanti una battaglia di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne il padre dei miei figli in tribunale non ha manifestato emozione alcuna Roberto Russo che sapeva di quel rapporto matrimoniale durato 30 anni ormai arrivato al capolinea per i giudici era lucido nessuna infermità mentale ha ucciso per vendetta era in grado di intendere volere l'ho guardato diverse volte e l'ho guardato anche ieri e ieri aveva uno sguardo cattivo molto più cattivo le posso dire che c'erano anche i miei figli in aula ieri c'era Marica e c'era Emanuele e anche loro hanno visto quello sguardo che diceva tutto non ha mai chiesto perdono non si è mai pentito neanche quando ha visto i suoi ragazzi dopo tre anni in aula quindi credo che questo già dica tutto non c'è bisogno di spiegazioni sono stata da lei ho pianto guardando la sua foto accarezzandola e ho detto sì amore ce l'abbiamo fatta ho sentito la sua presenza accanto a me ieri però è una realtà che ti toglie il fiato per noi la panchina rossa che siamo le dirette interessate in qualche modo viviamo questo dolore è un grido d'amore è una speranza è una speranza perché facendo la panchina rossa il comune o chi ci sta accanto e ci aiuta a incontrare i ragazzi a scuola come l'ho detto già prima e divulgare la parola del rispetto e dell'amore senza un figlio non si vive si sopravvive Giovanna Zizio è una donna forte e tanta forza dà a chi come lei ha provato le atrocità di vedere la figlia strappata alla vita così ingiustamente restiamo sempre in ambienti giudiziari il tribunale del riesame di Catania accogliendo la richiesta dell'avvocato Orazio Consolo ha disposto gli arresti domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico per l'ex deputato a Lars Raffaele Pippo Nicò tra 62 anni arrestato il 10 ottobre scorso dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Aquilia l'ex parlamentare indagato dalla DDA della procura per concorso esterno all'associazione mafiosa voto di scambio e distorsione secondo l'accusa avrebbe pagato 50.000 euro per avere l'appoggio del clan nasciuto legato alla famiglia Santa Paola Ercolano alle elezioni regionali in Sicilia del 2008 e 50 euro a voto per la competizione successiva nel 2012 a Lars Nicotra si è proclamato innocente e a Catania una lite tra padroni di cani sfocia in un'aggressione accaduto all'interno di un parco vediamo è degenerata in una lite tra padroni la ruffa scoppiata tra i rispettivi cani all'interno del parco madre Teresa di Calcutta a Catania un uomo è stato denunciato per lesioni personali a denunciare è stato uno dei padroni degli animali a quattro zampe che si trovavano nello stesso parco nello stesso momento tenuti a guinzaglio l'aggressore infastidito dal fatto che altri cani abbaiassero al suo ha redarguito i relativi padroni che hanno però ricambiato attribuendo la causa al cane dell'uomo infastidito lasciato libero e incustodito innervosendo gli altri animali da qui una rissa innescata dall'uomo denunciato che si è scagliato contro il malcapitato insultandolo e colpendolo con una testata l'aggressore è poi andato via lasciando l'uomo ferito con il labbro spaccato per terra il malcapitato è stato accompagnato dalla moglie al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 10 giorni per i traumi subiti dopo la denuncia l'attività investigativa è stata eseguita dal commissariato Borgognina di Catania l'uomo è adesso indagato in stato di libertà per il reato di lesione personale torniamo a parlare della questione di sesto al comune di Catania abbiamo sentito un esperto stamani il dissesto del comune di Catania sommerso da una massa di debiti pare a un miliardo e 600 milioni di euro un'enormità apre nuovi e inesplorati scenari su come uscire da una situazione di grave difficoltà finanziaria in considerazione delle enorme condizioni debitorie alimentate in anni di mala gestione dell'ente le cui responsabilità da giorni si rimpallano freneticamente tra ex amministratori dall'era scapagnina all'ex sindaco bianco Pogliese in carica dallo scorso giugno ha ereditato il default anche se pezzi della sua maggioranza hanno attraversato diverse legislature al di là delle responsabilità occorre intraprendere un percorso di risanamento possibilmente lineare e con il supporto delle istituzioni il fallimento di un comune di mezzo milione di abitanti comporta scossoni dagli esiti incerti e le esperienze maturate dei comuni finiti nel tritacare del fallimento come Santa Venerina o il più recente avvenuto a Giarre non rappresenta un faro di riferimento per il capologo etneo dove operano centinaia di aziende esposte per centinaia di migliaia di euro con il comune fallito lasciando sull'astrico decine di dipendenti alimentando il fronte dei disoccupati già abbastanza corposo cooperative e attività che si occupano di servizi sociali temono il definitivo tracollo un'azienda esposta ipotizziamo per un milione di euro il comune di Catania potrà concordare del 40 al 60% del debito drenando risorse indispensabili alla sopravvivenza societaria sulla delicata questione abbiamo raccolto il parere del professor Rosario Faraci docente universitario di economia e gestione delle imprese ci sono le imprese appunto creditrici nei confronti del comune di Catania che entreranno diciamo nella massa fallimentare nel passivo fallimentare se così possiamo dire e quindi in base alla legge si vedranno riconosciuti i loro crediti in una percentuale che non è certamente ottimale tra il 40 al 60% con implicazioni considerevoli ci sono tante aziende che operano nel campo dei servizi sociali ad esempio aziende che operano nel sociale in generale cooperative sociali e tutto questo ha implicazione anche dal punto di vista occupazionale il sindaco è stato molto chiaro nel dire che se ne occuperà io credo che di questo tema si debba anche occupare la prefettura aiutando il comune di Catania realizzando un tavolo di concertazione fra tutte le aziende che vantano crediti nei confronti dell'amministrazione comunale perché il problema è serio cioè in un contesto come quello di Catania già sofferente dal punto di vista della crisi economica per altri aspetti si aggiunge questo elemento che è il default finanziario del comune di Catania la situazione rischia di aggravarsi io sono fiducioso che appunto le istituzioni non solo l'amministrazione che non deve essere lasciata sola ma anche la prefettura e gli altri organi importanti di governo della città di governo del territorio possono dare una mano d'aiuto per tutelare le imprese le nostre imprese non lo dimentichiamo sono il patrimonio più importante dell'economia cittadina scatta da domani a Catania un nuovo piano viario nella zona del Tondo Gioeni ad essere interessato l'ultimo tratto di via Caronda vediamo un nuovo piano del traffico sarà in vigore da domani mattina nella parte alta di via Caronda esattamente all'incrocio con via Palazzotto per migliorare la circolazione veicolare in tutta la zona del Tondo Gioieni istituito il doppio senza di marcia nel tratto di via Caronda che va da via Fimi a via Francesco Fusco mentre in via Palazzotto è stato predisposto l'assenzo unico di marcia da sud verso nord da via Francesco Fusco a via Caronda la richiesta è stata avanzata dal Consiglio della terza municipalità e la decisione è stata assunta dopo che è stato preso in esame il traffico la larghezza stradale e l'offerta di sosta delle due vie interessate dall'inizio della consigliatura sia gli abitanti che anche gli esercenti della zona ci hanno chiesto un intervento sulla viabilità poi anche in seguito alla chiusura della bretella che è quella delle mie spalle la situazione qua in via Caronda è decisamente peggiorata infatti stiamo lavorando anche per la sua apertura però pensiamo che con questo cambio di viabilità riusciremo a dare una boccata d'ossigeno sia ai commercianti che a tutti i cittadini e non solo residenti e non solo che transitano qui quotidianamente e che trovano la zona molto spesso intasata specialmente nelle ore di punta l'obiettivo è quello di creare una maggiore fluidità veicolare sì sia creare una maggiore fluidità veicolare che ridare anche luce alla via Caronda che in questi ultimi anni è stata messa abbastanza in secondo piano e allora tecnicamente la modifica è solamente un cambio viario tra via Palazzotto e via Caronda abbiamo dato voce ai commercianti perché effettivamente avevano un calo di vendite e abbiamo fatto sì tramite l'amministrazione di cambiare il piano viario su via Palazzotto cioè via Palazzotto a partire da via Ingegnere sarà in salita fino ad arrivare alla rotatoria qui all'incrocio con via Rossi in secondo e via Caronda verrà trasformata in doppio senso di marcia fino ad arrivare sempre alla rotatoria ad angolo con via Ingegnere quindi tecnicamente le auto che transitano dalla circonvallazione avranno solo l'accesso su via Caronda e quindi la strada sarà molto più trafficata e quindi i commercianti avranno sicuramente un po' più di respiro una mia emozione una mia idea anche per la segnalazione che hanno fatto numerosi cittadini quindi io poi l'ho condivisa con il consigliere Rapisarda e con il presidente Ferrara ma la mozione era mia solo per precisare questo aspetto perché ci tengo perché ripeto è nata dal sottoscritto questa mozione a cinque giorni dall'apertura del nuovo pronto soccorso all'ospedale policlinico di Catania abbiamo sentito il primario Giuseppe Carpinteri il conto alla rovescia è già iniziato mancano appena cinque giorni all'attesa apertura del nuovo pronto soccorso al policlinico universitario di Catania che entrerà in funzione domenica 18 novembre un presidio d'emergenza tra i più moderni e all'avanguardia del meridione dotato di due tac una shock room una sala angiografo ed un collegamento diretto tra la zona critica per i codici rossi e la pista di elisoccorso testata un mese fa con l'atteraggio di un elicottero proveniente dal Cannizzaro una struttura realizzata con spazi e strumenti mirati a velocizzare le attività di soccorso dei medici e ottimizzare i tempi di attesa già all'ingresso del presidio dove i pazienti saranno smistati a seconda della gravità dei casi da un triage due percorsi distinti divideranno appena entrati i codici bianchi verdi e rossi ad illustrare le novità e gli strumenti d'avanguardia del nuovo presidio d'emergenza e il primario Giuseppe Carpinteri che ci spiega i criteri e le modalità secondo cui opereranno medici e operatori sanitari è un pronto soccorso che ci siamo costruiti in realtà abbiamo adattato e disegnato sulle nostre esigenze l'attività di pronto soccorso è veramente complessa da pazienti che hanno problemi apparentemente meno banali ma che non trovano risposta nel territorio ai pazienti con le patologie più gravi a partire dei primi abbiamo immaginato di facilitare i percorsi con le cosiddette fast track sostanzialmente un paziente che viene con patologie di minore gravità specialistiche monospecialistiche dermatologiche oculistiche odontoiatrica non faremo aspettare l'attesa per entrare in ambulatorio ma invieremo direttamente dallo specialista pagando chiaramente il ticket essendo un codice bianco per tutto il resto abbiamo suddiviso e abbiamo cercato di privilegiare i pazienti con patologie più gravi per cui i codici rossi entreranno immediatamente e la nuova sala rossa riuscirà ad accogliere fino a 8 pazienti contemporaneamente e adesso ci spostiamo ad Acireale dove è stato votato stamattina il bilancio consolidato un elemento che apre alle assunzioni dei precari al contempo ai concorsi per i quadri dirigenti intanto nel corso della seduta il consigliere di Re ha sollevato la questione pulizia cittadina e Netturbini chiedendo anche un consiglio comunale ad hoc la riunione del consiglio comunale stamattina è da Cireale all'ordine del giorno la votazione del consolidamento di bilancio passato con 10 voti favorevoli e 6 astenuti responsabilmente l'opposizione rimasta in aula assicurando il numero legale in prima battuta il civico consesso ha avviato il dibattito con 17 consiglieri di cui 8 dell'opposizione si tratta di un atto di fondamentale importanza per le sorti future dell'ente a cominciare dall'inquadramento dei precari e del via libera ai concorsi riservati ai quadri dirigenti uffici carenti da anni per il blocco delle assunzioni che hanno determinato un certo affanno amministrativo voto d'aura scontato e ampiamente annunciato dalla maggioranza grillina che ha intrapreso un percorso di riordino dei conti dopo il richiamo della Corte dei Conti di Palermo e lo schivato rischio fallimento il sindaco Stefano Lì ha espresso soddisfazione è semplicemente una somma aritmetica di bilanci già realizzati però è molto importante perché finalmente con questo atto possiamo riuscire a procedere alle assunzioni e sono diverse le assunzioni da fare sia dei concorsi di ingegnere che sono stati fatti sia per il dirigente dell'urbanistica che è una figura fondamentale questo potrebbe dare una mano agli uffici che oggi siamo veramente messi male e poi altre forme di assunzioni sono il concorso per la stabilizzazione dei primi 14 precari che in questo momento non possono essere assunti ma con questo atto potrebbero essere assunti e l'assunzione temporanea di 4 dipendenti dell'IPAB da mandare negli asili come assistenti igienico-sanitari anche questa operazione è stata bloccata dal fatto che eravamo privi di bilancio quindi di per sé l'approvazione del bilancio è quasi un fatto scontato però gli effetti che genera sono molto importanti nel corso della seduta registriamo l'accordato intervento del capogruppo della componente mista di riferimento a Forza Italia Michele Direcchi ha sollevato la questione della pulizia in città chiedendo una riunione consigliare specifica per trattare il tema dei rifiuti e dei diritti dei centrolavoratori addetti alla nettezza urbana di cui Direcchi è fatto promotore dopo aver incontrato e ascoltato le difficoltà quotidiane degli operatori io stamattina col mio gruppo abbiamo voluto mettere in evidenza un altro degli aspetti di manchevolezza di questa ditta che gestisce quindi non tanto quello della pulizia perché è sotto gli occhi di tutti non tanto quello della scerbatura è sotto gli occhi di tutti non tanto quello del decoro che non c'è che è sotto gli occhi di tutti ma io ho voluto puntare il dito sul disagio dei lavoratori siccome nelle attività di servizi la voce del costo dei lavoratori è quella che pesa di più non ritengo corretto che si possano cercare i margini recuperare margini dove ci sia esposti in maniera eccessiva sul costo del servizio a danno dei lavoratori i lavoratori vanno rispettati vanno rispettate le loro esigenze va rispettato il contratto collettivo nazionale di lavoro i lavoratori hanno un importantissimo fondo di assistenza visto che sono disagiati che gli viene disconosciuto mentre tutte le aziende precedenti gliel'hanno riconosciuto allora io chiedo all'amministrazione non possiamo girarci all'altra parte cento lavoratori accesi operano e devono essere abbiamo il dovere come amministrazione comunale come consiglio comunale come città di acirale di intervenire a loro favore abbiamo il dovere di riprendere in mano tutto il discorso della gestione dei rifiuti quindi io chiedo all'amministrazione come ho chiesto un consiglio apposito domenica scorsa allo stadio Angelo Massimino di Catania è stata arrestata una tifosa del Catanzaro Esther Pugliario la donna 37 anni a Catania per assistere all'incontro di Serie C tra la squadra e quella rossa-azzurra aveva portato con sé nascondendolo nel reggiseno un fumogeno del tipo Black Thunder è apparso chiaro agli agenti che la donna deteneva l'oggetto in relazione alla partita a cui doveva assistere al fine di farne presumibilmente uso all'interno o all'esterno dello stadio Angelo Massimino per la supporter sarà avviato inoltre la procedura per l'emissione del DASPO ci fermiamo adesso c'è la pubblicità ci vediamo tra poco rieccoci in studio per la conclusione del nostro telegiornale non ci sono notizie infatti dell'ultima ora dunque si conclude qui la prima edizione di Ora TG che vi ricordiamo come sempre è disponibile all'indirizzo che vedete sovraimpressione reitv.it così come anche sul canale youtube e sulla pagina facebook streaming adesso le previsioni meteo per la giornata di domani buon pomeriggio le previsioni meteorologiche per la giornata di domani mercoledì 14 novembre il cielo sarà sereno su tutta la Sicilia qualche addensamento di nubi ma nessuna precipitazione in programma i venti saranno deboli i mari calmi uno sguardo adesso alle temperature a Catania minima e massima rispettivamente di 13 e 21 gradi centigradi le temperature più alte registrate nel capoluogo etneo e a Siracusa la più bassa invece ad Enna con 4 gradi centigradi di 13 e 21 gradi